Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno trovato e sequestrato a Scordia una piantagione con all'interno circa mille piante di canapa indiana. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un catanese di 30 anni e di un albanese di 47 anni. Quest'ultimo era latitante dopo una condanna definitiva per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e tentato omicidio. Quest'attività degli uomini delle fiamme gialle è stata portata a termine insieme all'unità specializzata antidroga del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Catania e all'unità cinofila dei mezzi aerei del corpo. In dettaglio, dopo diversi appostamenti nei terreni al confine tra le province di Catania e Siracusa, è stato trovato nelle vicinanze di Scordia un terreno impervio per la presenza di una ricca vegetazione dove all'interno c'era una piantagione composta da circa mille piante di cana pegnana attrezzata con un sistema di irrigazione di tipo professionale. I due uomini, trovati all'interno del fondo, sono stati arrestati mentre irrigavano l'area. Rispetto all'arrestato di origine albanese agli accertamenti effettuati, il cittadino è risultato latitante perché condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Napoli ad una pena complessiva di 24 anni di reclusione. L'arresto dei due uomini, su richiesta della Procura della Repubblica di Caltagirone, è stato convalidato dalla giudice per le indagini preliminari. L'attività investigativa si colloca nel più ampio quadro delle attività poste in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, volto alla repressione della produzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela delle fasce più deboli della popolazione. La piantagione di cana pegnana è stata sequestrata dai militari.